insomma arrivate al posto di combattimento ragazzi stasera il fuoco nel frattempo Dino si diverte a fare il vivo e in canna un bel animale mappa mappa mamma mia luci prova pure a fare un video che problema che escono le carpe giusto ceppa amici di river fishing bentornati sul canale in questo nuovo video oggi siamo per l'ennesima volta assi duri mio amico dino si sta procurando il vivo eccolo qui nel frattempo sto facendo le montature per questa notte sto montando l'accampamento noi come sempre se qualcosa esce ci vediamo dopo restate in attesa ciao 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 Vai Stefano, vai bello bello. Ragazzi il primo siluro della notte è uscito della notte, sono le 9 e 10, non è un quarto. Una manciata impressionante, un bel compattimento, è andato a finire nelle legnaie, pensavo di averlo perso, proprio alla fine l'ho forzato ed è venuto fuori. Adesso lo mettiamo in acqua e lo teniamo fino a domani mattina così ci facciamo le foto, sperando in altri siluri stanotte. Dino, parole a caldo? Ceppa! Il nostro dino non la finisce più, se la prende anche con le carpe se la prende stasera. Anche con le carpe se la prende. Prendiamo il guadino, Dì? Oh, l'hai persa, l'hai persa? No! Sì, è troppo rossa. No! Dai, ti rifai Dino, ti rifai adesso. È troppo rossa. Spengo la telecamera prima che inizia il calendario. Come viene Dino? Ti piace? Oh, Gioio, la saluta. Ragazzi, non sei tu, l'abbiamo preso, siamo contenti. Ha perso una carpa. Comunque, ci ho perso una o due carpe stasera. Il calendario l'abbiamo bestemmiato anche stasera e adesso ci mangiamo sopra. Eccolo, il nostro ceppa. È unico. Sì, se ne va, se ne va, se ne va. Vai, voglio. Attenzione, fa la tiro, Stefano. Ma che faccio? Sì, se ne va, se ne va, se ne va, se ne va, se ne va. Ma che faccio? Ma che faccio? Ma che faccio? Mamma mia. Perché? Vai, Stefano, non mandiamo, non mandiamo. No, non mandiamo. No, non mandiamo. Tira sempre. No, no. 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 Ho la tua canna all'amata. Eh, lo so. Non ti stanno vedendo. Nonostante che l'ho tirato fuori dalla legnaia. Sta qua sotto, sta. Ma non sarà nemmeno grandissimo, però. Mamma mia. Oh, uguale a quella. Più o meno, dai. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Io mentre che prendi i guanti,... mi faccio un po' di vida, la salute del siluro. ragazzi questa è una nottata fantastica sia per la pesca sia per mangiare ragazzo devi vedere la canna questa è la bomba è la bella Grazie a tutti. 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 C'è ancora la luna e c'è Dino che già è operativo, non si arrende. Dino, la lotta con le carte, la lotta con le carte. Ciao ragazzi, buongiorno, già sono operativi. Ti prenderò. No, adesso riprenderò. E Dino colpisce. Ha detto che ha detto che voleva la carpa e carpa fu... 1-0. 1-0 per te. 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 2-0 per te. 1-0 per te. 1-0 per te. pesca è giunto al termine, siamo sudatissimi, Dino si è divertito, io ancora di più, peccato per le carpe e le bestemme che ha buttato, comunque noi ci vediamo al prossimo video, ricordate di iscrivervi al canale, di seguire le pagine Facebook e Instagram, un saluto da Dino e Stefano, ciao alla prossima! Iscriviti al canale